Ma com'è Violetta? Bellissima! Io mi aspetto di vedere Violetta dal vivo come aspettavo da tanto tempo. Io lo stesso. Però prima dicevi che vorresti avere almeno... Un autografo. E secondo te ci riuscirai? Non credo. Perché? Perché c'è un sacco di gente. Sì. Beh almeno la foto l'ho portata, forse ci riesco a farla autografare. Accompagni mia sorella. Ah, perché a te invece... Sì, mi piace, ma avrei fatto anche a meno. Ma voi quanti anni avete? Otto. Otto. Accidenti? Accidenti. Ma siete emozionate? Moltissimo. Moltissimo? Biglietti? O quanto? O qualche platea signora, mi sono rimasti solo tre platea e basta. Tre? A quanto? Quello che costava 170 signora. 170. Costavano normali 170. E adesso? 190, 20 euro in più signora platea. Però sono le platee, sono la prima platea quella là davanti. Un autografo. Eh? Di conoscerla. Di conoscerla, di salutarla. E di scappare a Buenos Aires con lei. Sì. E la mamma con le ombre. Lo suegno, la chiave della risale. Deppi, vicino dai. Ah, 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 ah. Planta, mamma, qui, che c'è sì. Sì, siamo psicotos. Vai. Sei emozionata? Sì. Come mai? Perché non avrei capito a vederla. Ma cosa ti aspetti? Si aspetterebbe tanto. Purtroppo nulla perché non ha il biglietto. Siamo venute con la speranza di vederla affacciarsi da qualche parte, ma non ci sia riuscito. Ma il biglietto non siete riusciti a trovarlo? Ero già finito. È un regalo di Natale. Eh, non abbiamo il biglietto. Troppo caro il biglietto. Cosa vi è costato questo pomeriggio con Violetta? Costato in termini di soldi. Sì. Secondo me è un po' di più di quello che avrebbe dovuto, però dai, i biglietti li abbiamo comprati a 70 euro. Siamo bellissime! Cosa ti è costato questo pomeriggio? In che senso? In tutto. I biglietti e... I biglietti 70 euro. Sono venuta solo io come mamme, ho accompagnato le bambine, così... Però insomma, dai, due fascette ce le siamo cavate, sono abbastanza... Abbiamo già tutto. I gadget vari li abbiamo già tutti.